In questa terza lezione andiamo a parlare di un esercizio che per me è fondamentale, che sono i numerotti. Nella prima edizione del libro trovate i numerotti a pagina 14, e sono questi qui, che nella seconda edizione sono stati implementati con questi qui. Cosa ho aggiunto? Ho aggiunto la pagina di numerotti un po' completa con, diciamo, queste altre cose che avevo qua, questi altri appunti che mi ero messo a penna, come ad esempio il fatto che qui ci sia un arpeggio Major 7 o Settima, che qua ci siano degli arpeggi di triade rivoltati, per farli notare ai miei studenti. E poi ho aggiunto quelle sulle altre scale modali, perché in realtà qui abbiamo la scala maggiore e i modi derivati dalla scala maggiore. Quindi ho pensato, dato che poi li abbiamo usati con i miei studenti, di introdurre i numerotti con i modi derivati dalla scala minore armonica e quelli derivati dalla scala minore melodica, per riuscire a coprire un range di intervalli completo, quindi al massimo, includendo anche, ad esempio, il doppio bemolle 7, che ovviamente in questa pagina, qui, nella locria, non c'era, perché è nella superlocria. Quindi, cosa sono questi numerotti? Sono esercizi per l'intonazione. Come si usano questi numerotti? Come si usa questa pagina? Il metodo americano della Berkley ha trasformato il Do mobile, quello che era il nostro Do mobile, ovvero il fatto di cantare qualsiasi scala con i nomi della scala di Do, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si. L'ha trasformata con i numeri. Perché con i numeri? Perché se noi ci pensiamo si capisce meglio il rapporto che c'è tra le note. Se io canto 1, 2, 3, 3 bemolle, 4 bemolle, io riesco a capire di cosa stiamo parlando, in qualsiasi tonalità siamo. Ok? È molto, molto utile questa cosa per riuscire a padroneggiare il nostro strumento. Cioè, l'obiettivo è, secondo me, con i numerotti, di riuscire ad avere il totale controllo della nostra voce. Cioè, è come tastare una tastiera, cioè come mettere i tasti in un pianoforte e imparare le note. Ok? Io con i numeri posso fare ciò che voglio. Una volta che ho imparato, ad esempio, il Do, ho imparato a cantare il Do, che è Do. Questo Do, ok? Posso arrivare ovunque. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 diesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bemolle. Ok? Posso cantare qualsiasi nota che mi venga in testa. Qual è, quindi, qual è la praticità di saper fare questa cosa? Che siamo più intonati. È un esercizio di intonazione. Soprattutto per imparare a fare le scale alla perfezione. Perché una volta che noi ci cantiamo tutte queste scale qui e quelle che ho aggiunto, e le sappiamo cantare anche con i numerotti, riusciamo ad ottenere un livello di padronanza della scala che è molto alto. Quindi, prendiamo la nota di riferimento, che può essere Do, può essere quella che vi viene più comoda, e iniziamo a cantare quello che c'è scritto. 1, 2, 3, 4, ok? Quello che consiglio è non vi suonate le note. Tipo non fate... E le fate insieme al pianoforte, perché non imparate niente. Cioè, l'obiettivo è capire quello che sta succedendo a livello mentale, e riuscire a riprodurlo col tuo strumento. Quindi, dato la nota di riferimento, imparate prima... Ve la suonate, sì, ve la suonate. Magari 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Ve la suonate un po' insieme. Dopodiché, vi date solo la prima nota. 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2... E ci provate. Magari fate battuta per battuta, cioè scatoletta per scatoletta. 1, 2, 3, 4... E ve la controllate, se è giusta il pianoforte. E andate avanti fino alla fine della pagina, seguendo questo metodo. Adesso vi metto una parte di questa pagina in sovraimpressione, quella più facile, così potete provarci anche voi. Ok? Ci vediamo alla prossima lezione.